Presidente, ieri sera avete incontrato il Ministro dell'Interno Alfano sull'emergenza e migrazione, lei lo ha definito un incontro costruttivo e all'orizzonte anche un incontro con il Presidente del Consiglio Matteo Renzi. C'è spazio ancora per trovare una solidarietà fra le regioni? Direi proprio di sì, ieri questo lo si è compreso pur con delle evidentemente distinzioni anche al tavolo, c'è la consapevolezza che si debba affrontare tutti insieme questa emergenza, c'è un'assoluta consapevolezza che dobbiamo farlo tutti insieme se vogliamo essere credibili in Europa, in Europa ha fatto i primi seppure timidi passaggi, noi dobbiamo insistere sia per aumentare il numero delle persone di cui l'Europa può farsi carico, sia anche per semplificare le procedure amministrative e trovare soluzioni all'emergenza. In questo senso le regioni hanno trovato dei punti di equilibrio comuni nella disciplina degli hub, nella vigilanza sanitaria e anche nella possibilità di andare verso la cosiddetta accoglienza diffusa perché vi è la consapevolezza da parte di tutti che i grandi assembramenti sono quelli che spaventano di più i nostri leggenti.